Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial EasyMorph. In questo tutorial andremo a parlare dell'azione Iterate. Per poterla utilizzare iniziamo a importare dei dati, ad esempio. Generate Data, Create List. Incolliamo dei dati che ho precedentemente copiato dal mio file di testo. Clicchiamo su Apply e vediamo che l'oggetto Iamente List mi importa i dati in un'unica colonna. A questo punto, attraverso l'azione Split, andiamo a dividere il nostro dato, che è separato da un pipe, in due colonne. La prima che chiameremo URL e la seconda che chiameremo File. Eccoci qua. Perfetto. A questo punto salviamo il nostro progetto e lo chiamiamo Iterate 2. Per poter utilizzare l'azione Iterate necessitiamo di creare o un nuovo modulo o un nuovo progetto. In questo caso noi andremo a creare un nuovo modulo all'interno di questo progetto sul quale stiamo lavorando. Il nuovo modulo lo chiamiamo Dettaglio. E all'interno di questo modulo utilizzeremo l'azione Download per poter scaricare un file dal web. Clicchiamo su Action, scriviamo Download e utilizziamo l'azione Download File. A questo punto andiamo a creare due parametri di tipo String, uno che chiameremo URL, nel quale non imposteremo nessun valore, e un altro che chiameremo File. A questo punto andiamo a impostare i parametri dell'azione Download, dicendo che l'URL è un'espressione, e l'espressione è data dal parametro URL, e che il file che deve essere salvato, deve essere salvato con il nome che arriva dal parametro, e il parametro è il parametro File. In più qua andiamo a impostare Override, cioè nel momento in cui andiamo a rieseguire per la seconda volta la nostra azione Download, andremo a sovrascrivere i file precedentemente scaricati. Apply. Ritorniamo nel modulo Main e andiamo finalmente ad aggiungere l'oggetto Iterate. Aggiungiamo l'oggetto Iterate, che come vi dicevo può essere utilizzato o su un modulo presente all'interno del progetto o su un altro progetto. Selezioniamo il modulo Dettaglio. Lasciamo come impostazione di default la Iterate, cioè esegui per ogni riga della tabella Table 1 le azioni contenute nel modulo Dettaglio. In più, automaticamente i parametri del modulo Dettaglio vengono impostati con le colonne che hanno lo stesso nome nella tabella 1 del nostro progetto principale. Se avessero dei nomi differenti, saremmo noi a doverli impostare. A questo punto clicchiamo su Apply e clicchiamo su Run All Actions. Finito l'esecuzione, ovviamente salviamo il nostro progetto EasyMorph. Se andiamo a vedere all'interno della cartella, troviamo i file appena creati, contagiati, deceduti e guariti. Questa è l'esecuzione classica di un iteratore. Ora invece vediamo che possiamo, oltre a eseguire l'iterazione, anche appendere a questa Table 1 tutti i dati che arrivano dall'iterazione. Torniamo nel modulo Dettaglio e dopo l'oggetto Download andiamo ad aggiungere l'azione Import da un file di testo delimitato. La mettiamo all'interno, ovviamente, dello stesso oggetto, dicendogli che il file è posizionato al nome File e deve essere importato con queste caratteristiche. Clicchiamo su Apply. Torniamo nel modulo Main e sull'azione Iteratore impostiamo come proprietà di Iteration Mode Iterate and Append Results. Di default andiamo a metterle all'interno di Table 1. Clicchiamo su Apply e rieseguiamo il nostro progetto. Vedete che ora, oltre ad aver scaricato i file, lo possiamo vedere dalla cartella, l'ora del file è cambiata, prima era 12.49, ora è 12.50. Otteniamo all'interno della tabella 1 tutti i dati dei file che noi abbiamo appena scaricato, che poi possiamo successivamente lavorare con altre azioni di Isimorph. Per ora è tutto, grazie.